Benvenuti, siamo con la professoressa Giusy Toto, docente ordinaria di didattica e pedagogia speciale verso l'Università di Foggia, coordinatrice dell'Earning Science Hub. Benvenuta professoressa. Buonasera. Professoressa Toto, lei sta sfogendo uno studio sulla diffusione dell'intercultura delle scuole della Regione Puglia. Ci spiega anzitutto cosa si intende quando si parla di intercultura in ambito scolastico. Allora, non ti do una definizione perché diciamo sul vostro portale che mi ospita sempre in maniera molto gentile, abbiamo insegnanti tra il pubblico. Parlo degli effetti concreti che l'intercultura produce a scuola. Parlare di intercultura a scuola significa focalizzarsi sulla promozione dell'inclusione, del dialogo e della comprensione reciproca tra studenti di culture diverse. Quindi, cosa deve fare un insegnante all'interno della classe o in un istituto scolastico? Produrre percorsi didattici di impostazione interculturale perché deve facilitare la comunicazione e la collaborazione tra i diversi studenti di diverse culture per poterli confrontare su esperienze, su prospettive, su obiettivi didattici che ci permettono di lavorare in maniera proficua all'interno di tutta la classe. Ecco, dallo studio che sta svolgendo ci dice qual è la situazione attuale delle scuole pugliesi riguardo alla promozione dell'intercultura ed in particolare quali difficoltà emergono e quali progressi sono stati fatti negli ultimi anni. Allora, negli ultimi anni la formazione interculturale, perché io mi occupo di formazioni insegnanti, in realtà è legata a una sperimentazione nazionale di un master sull'intercultura che il ministero della pubblica istruzione aveva erogato in forma gratuita a tutti i docenti in servizio a scuola. Quindi un livello di formazione in servizio è stata fatta negli anni passati. Oggi diciamo che questo non è più disponibile come forma di formazione nelle scuole, ma viene sostituito da altri modelli didattici che vengono organizzati da altre associazioni. Ci sono associazioni specifici, anche Orizzonte Scuola produce questo tipo di formazione e ci dà questo tipo di contenuto. Che cosa significa parlare di competenza interculturale a scuola e cosa devono fare gli insegnanti? Devono sviluppare negli studenti una serie di abilità, come la consapevolezza culturale, che è il riconoscimento dei propri valori e pregiudizi e la comprensione delle differenze culturali. Sviluppare l'empatia culturale, che è una variabile rispetto all'empatia, cioè ci permette di comprendere i punti di vista altrui, ma anche le emozioni, i contesti differenti in cui vivono gli studenti. Quindi sviluppare tutta una serie di abilità nei nostri studenti per creare il dialogo all'interno della classe. In Puglia la situazione è fortemente impari. Ci sono scuole che hanno una serie di strumenti messi in campo, come il referente per l'intercultura, che è un docente, come il referente per la disabilità, che si occupa di questo ambito disciplinare. E addirittura alcune scuole hanno inserito i protocolli per l'accoglienza anche nel PTOF. Ma non è una situazione generalizzata e non esiste uno stesso riscontro, uno stesso risultato, un po' in tutti i contesti di tutte le scuole. A questo punto le chiedo, quali azioni concrete potrebbero essere intraprese nelle scuole per costruire un percorso interculturale, partendo magari da piccole iniziative che possano avere un impatto immediato e duraduro. Sì, un po' diciamo l'ho già anticipato, però i dirigenti scolastici potrebbero sollecitare, stimolare gli insegnanti a scuola ad inserire nel PTOF, non soltanto però come voce teorica, diciamo che poi abbia una ricaduta pratica, un protocollo per l'integrazione, per l'accoglienza e anche per appunto creare pratiche inclusive all'interno della scuola. L'inclusione passa a 360 gradi, per quello diciamo io sono stata coinvolta anche in questa ricerca e come sappiamo tutti nella categoria BES a scuola includiamo anche gli studenti stranieri e gli studenti con svantaggio socioculturale. Questo è da un lato un aspetto positivo, dall'altro non ci permette tanto di diversificare le azioni che possiamo intraprendere a scuola, perché per esempio nelle classi dove la componente multietnica è molto forte è importante insegnare agli studenti la gestione e la risoluzione costruttiva dei conflitti, perché è facile che si inneschino conflitti quando c'è difficoltà comunicative o di scarsa conoscenza anche a livello culturale, però il ruolo dell'insegnante poi diventa un vantaggio per tutta la società anche fuori dalla scuola, la gestione costruttiva del conflitto in classe e fuori della classe diventa un vantaggio educativo non di poco conto. Ecco, diciamo che lei fa formazione docenti, no? Sì. Allora, come viene affrontata formazione interculturale degli insegnanti in Puglia? Ritieni che gli insegnanti siano adeguatamente preparati a lavorare in contesti multiculturali e cosa potrebbe migliorare a livello formativo? Allora, faccio il mia colpa. In realtà, come formazione iniziale degli insegnanti, noi ad oggi abbiamo come percorso, almeno io sono coinvolta nel TFA Sostegno, che si occupa specificatamente della disabilità. Non è entrato in questo percorso formativo l'idea di BES generica, come abbiamo detto prima. Quindi, sia l'intercultura che lo svantaggio socioculturale ha scarso spazio anche nei programmi universitari di pedagogia speciale o negli altri insegnamenti, a meno che non sia un insegnamento specifico di pedagogia interculturale. Quindi, anche noi docenti dobbiamo ripensare a questo, ripensarlo perché sono gli insegnanti che ce lo chiedono, anche in formazione. Uno dei problemi comuni a tutte le classi, a tutti gli studenti nella loro diversità, è appunto la gestione della classe. Gli insegnanti ci chiedono spesso quali strategie, metodi, strumenti possono mettere in campo per gestire la classe. Quando siamo di fronte a un contesto multietnico, è ovvio che le difficoltà maggiori sono di livello comunicativo, per la scarsa conoscenza della lingua, ma anche dei significati culturali che sono alla base della diversità. e la gestione anche della collaborazione che può nascere all'interno della classe. Quindi, sviluppare percorsi che rendino maggiormente collaborativo il rapporto fra gli studenti a scuola diventa fondamentale. Collaborazione, condivisione di contenuti e di strategie, anche di organizzazione della classe, diventano importanti. Importanti sia lato studente che lato docente, perché gestire insieme agli studenti le divergenze che possono emergere in classe, ci permettono di sviluppare delle abilità che sono legate proprio alle tecniche di negoziazione e di risoluzione dei conflitti, che diventano fondamentali nella società contemporanea. La scuola deve essere aderente al contesto e deve riuscire ad incidere a livello sociale anche fuori dalle aule. Se riuscissimo, grazie all'intercultura, ad insegnare queste abilità e queste competenze, diciamo che ne gioveremmo un po' tutti. Ecco, lei prima ci diceva che c'è questa situazione in Puglia un po' a macchia di lopardo. Allora vi chiedo, esistono delle linee guida specifiche per le scuole pugliesi in tema di intercultura? E se sì, quali sono i principali obiettivi? Comunque voi di Orizzonte Scuola siete sempre sul pezzo. Cioè, riuscite davvero con queste domande a centrare ciò che è in fieri, diciamo. Allora, io un paio di settimane fa ho fatto un incontro alla Regione Puglia su questa tematica e ho incontrato casualmente, diciamo, in un incontro con il garante per la disabilità della Regione Puglia chi si occupa di queste tematiche. In Puglia abbiamo varie specializzazioni a livello regionale sulle varie tematiche per i minori non accompagnati, per gli immigrati, legati anche alla questione dei diritti o della tutela dell'immigrazione all'interno dei vari contesti. Io non mi occupo di immigrazione in generale né tantomeno di intercultura, se non nel segmento appunto scolastico e di formazione degli insegnanti. Ed è emerso, e per quello interesserebbe anche diciamo più ambiti di intervento, non soltanto quello scolastico, la mancanza di linee guida che possono dare uno spunto a tutti i dirigenti scolastici e agli insegnanti su cosa fare in classe, che tipo di intervento proporre, quali possono essere appunto dei protocolli di accoglienza che possiamo mettere in alto, quali strategie dover attivare quando in classe gli studenti per esempio hanno delle carenze linguistiche o comunicative o di partecipazione, o semplicemente vivono stress ed ansia perché si sentono o si percepiscono diversi rispetto agli altri e quindi dobbiamo gestire anche dinamiche di natura psicologica e relazionale. Ecco, chiediamo con un'ultima domanda. In mancanza di linee guida, come ci diceva adesso anche lei un po' in generale, strutturati sul tema dell'intercultura, quali principi e strategie di base potrebbero essere adottati dalle scuole per avviare un percorso di sensibilizzazione interculturale? Con le scuole si può fare sempre tanto e le scuole per fortuna ogni volta che sono chiamate ad intervenire sono sempre presenti, forse è l'agenzia formativa che abbiamo in Italia che più delle altre risponde a tutti i bisogni, le emergenze, le pressioni che ricevono anche dai contesti sociali. Possiamo fare tantissimo, possiamo fare iniziative di sensibilizzazione, di prevenzione dei pregiudizi e delle incomprensioni, possiamo strutturare una serie di attività didattiche da proporre in classe che ci aiutano a raggiungere gli obiettivi che ho detto prima, cioè quelli di gestione dei gruppi, collaborazione, comunicazione, negoziazione, gestione del conflitto. Esistono una serie di metodologie didattiche innovative che possiamo proporre anche in ottica interculturale, esistono diverse sperimentazioni e da questo punto di vista questo filone di ricerca mi sta coinvolgendo abbastanza. Noi abbiamo un progetto di ricerca internazionale, quindi abbiamo più punti di vista, l'Università Finlandese e tanti altri paesi d'Europa che ci portano i loro dati e ci dicono che proporre attività socialmente condivise tra gli studenti migliorano sia gli apprendimenti da un punto di vista cognitivo ma anche apprendimenti da un punto di vista di soft skill e social skills. Ci permettono appunto di sviluppare competenze trasversali tra gli studenti e di partecipare in maniera, come dire, attiva alla vita della scuola. Uno di questi modelli lo lancio giusto come esempio così ne parliamo in concreto è il socially shared regulated learning che è un approccio didattico che permette l'autoregolazione degli studenti nei processi di apprendimento. Cioè lo studente si monitora quando fa qualcosa, non lo fa in maniera, come dire, agito da qualcun altro o in maniera passiva. Sa esattamente che cosa sta facendo. ha un diario di bordo nelle attività che sta facendo, sa dove deve andare, monitora se stesso. Quindi ognuno ha dei tempi diversi, ha degli apprendimenti diversi che l'insegnante da solo è vero che deve personalizzare l'attività didattica ma con la lezione frontale a volte non ci riesce e nemmeno si può pretendere che possa monitorare continuamente 30 persone in maniera sincrona magari senza l'uso della tecnologia. Quindi come si può fare? Rendendo gli studenti consapevoli e in un certo senso protagonisti del loro percorso di formazione. Se lo studente è attivamente coinvolto ed è responsabile di quello che fa e di quello che non fa l'insegnante riesce con l'aiuto dello studente stesso a monitorare i suoi apprendimenti. Secondo me siamo in una fase dove dobbiamo aprire una terza finestra. C'è stato un periodo dove le lezioni erano centrate sugli insegnanti soprattutto attraverso la lezione frontale che era confessionale l'insegnante era il punto di riferimento nella scuola e nella società e poteva e doveva era l'unico sportello culturale di tutti i contesti anche magari quelli più di periferia. Siamo passati ad un approccio centrato sullo studente quindi di personalizzazione di metodologie didattiche che lo coinvolgessero. Secondo me dobbiamo aprire una terza strada quella della relazione tra studente e insegnante. L'uno non può prescindere dall'altro non può essere centrato né solo sull'insegnante né solo sullo studente e quindi un insegnamento è un'attività didattica centrata su entrambi gli attori che permettano in una responsabilità reciproca di fare dei passi avanti. Secondo me quello è il risultato che possiamo ottenere se vogliamo raggiungere contenuti e efficacia a scuola. Grazie per essere stato e per essere stato con noi. Grazie a voi.